Corsa a Ponitrotto, categoria Minitrotter, finale a tre del campionato regionale Campania. Insalchi gli allievi futuri driver della scuola Corsa a Ponitrotto Italia. Una corsa senza gioco, riconosciuta asi sulla distanza dei 1200 metri. Tre partecipanti, Zeus, Bud Spencer e Rombo di Cannone. Chiusura delle ali, Bud Spencer, facile al comando con Vincenzo Brisco. In seconda posizione Zeus, Insalchi, Francesco Fiorentino, parte con cautela Rombo di Cannone con Biagio Marrazzo. In bocco della prima piegata i tre si dispongono in fila indiana con Bud Spencer a comandare le operazioni su Zeus e Rombo di Cannone. Gradua adesso il leader Bud Spencer con Vincenzo Brisco che percorre i 200 iniziali in 17.4. Dopo lancio sollecito. Zeus nella sua schiena, si affaccia a Zeus, va di dentro Rombo di Cannone che guadagna la scia di Bud Spencer. 400 completati in 34.2, una seconda frazione in 16.7. Per debattute Zeus che ha sbagliato la mossa probabilmente prende vantaggio Bud Spencer. Rombo di Cannone cerca di agganciarlo. Ci riesce all'imbocco della piegata finale. 50.600 metri in una frazione adesso in 15.8 con Rombo di Cannone che si propone su Bud Spencer. Lo va ad attaccare. Lotta serrata tra i due. Bud Spencer con Vincenzo Brisco di dentro e Rombo di Cannone con Biagio Barrazzo a largo. Rombo di Cannone adesso sta passando, sta passando Rombo di Cannone, viene stappato, prende decisamente la meglio. Rombo di Cannone pur allargando nei metri conclusivi va a vincere alla grande da soggetto superiore. nei confronti di Bud Spencer e Zeus terminati vicini, 22.5 un chilometro, con 15.5 all'arrivo. Alla grande, Rombo di Cannone, Biagio Barrazzo vince questa finale a tre del campionato regionale campale. Signore e signori, è tutto dall'ippodromo di Agnano. Buona serata. Grazie a tutti.